Luigi Gufo, calciatore del bar Pizzeria Mirò, vittoria sofferta, arrivata nel primo tempo dopo i primi 30 minuti molto equilibrati, poi alla fine nel secondo avete gestito e avete ottenuto tre punti importanti. Ma che cazzo dici? È vero, è vero, abbiamo fatto una bella partita stasera, combattuta e c'eravamo davanti un avversario molto tosto e curiaceo. Senti, è arrivata anche la qualificazione, insomma il passaggio del turno in Coppa, da morale, mi dà soddisfazione. Ci divertiamo come al solito. Quali sono gli obiettivi invece in campionato della squadra? Riuscire a fare i playoff naturalmente, ci proviamo anche se sarà dura perché ci sono delle grandi squadre e soprattutto più giovani. Grazie a Luigi Gufo del bar Pizzeria Mirò e a Raiolo Sport, a Raiolo Trementozi. Grazie. Grazie.